Il DACA Conrad Johnson Premier 9 presenta uno stadio convertitore digitale analogico Bitstream. Il filtraggio e la deenfasi vengono eseguiti in dominio digitale per ottenere la massima linearità di banda. La fasatura del rumore del terzo ordine attenua di 118 dB le espure dell'elaborazione digitale che rimangono quindi al di sotto del rumore intrinseco del digitale. È dotato di trasformatori di potenza separati e alimentatori regolati separatamente. Un compartimento schermato isola lo stadio analogico dai circuiti digitali. Tutti i componenti sono i migliori Conrad Johnson con condensatori in polistirene. Tutti i resistori sono resistenze in lamina metallica di precisione tagliate al laser. Il Premier 9 è uno dei DAC più musicali che si possa ascoltare. Non è eccessivamente caldo né mieloso sfocato come alcune apparecchiature Conrad Johnson precedenti. Il suono è suo dente e musicale senza essere magro o artificiale. In altre parole rimane un Cora Johnson Premier sicuramente degno del suo nome. È tenuto molto bene e soprattutto è stato molto poco utilizzato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.